Super gossip. È andata in onda una puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over e proprio mentre dame e cavalieri ballavano in studio, Cristina si è avvicinata a Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, e gli ha detto una cosa precisa. L'avvicinamento della dama alla seduta dello speaker radiofonico non è stato notato da tutti. Tant'è che Maria De Filippi, quando la musica si è interrotta, non ha detto nulla. Ma ai più attenti non è sfuggita la conversazione della dama con il corteggiatore di Ida. Cristina Tenuta è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso dell'ultima puntata, improvvisamente si è avvicinata a Mario Cusitore mentre in studio era partito un ballo. Ida stava ballando con Pierpaolo e lei è andata dallo speaker radiofonico. Le telecamere hanno ripreso il momento in cui Cristina si è avvicinata a Mario e l'ha invitato a bere un caffè. Impossibile non notare l'imbarazzo del corteggiatore. Come si vede dall'immagine, infatti Cusitore sembra che abbia arrossito quando Cristina ha insistito affinché si alzasse per chiacchierare un po' con lei. Dalle immagini mandate in onda, sembra che la dama a un certo punto lo abbia quasi pregato di alzarsi. Lui le avrebbe risposto meglio di no. Poi Cristina ha sottolineato che sarebbe stato un caffè in amicizia. Dopo l'ennesimo rifiuto di Mario, alla fine è andata a bere da sola il caffè. Cusitore potrebbe aver rifiutato l'offerta per evitare incomprensioni con Ida. Nel corso della sua esperienza, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni su di lui e se si fosse alzato per bere un caffè con Cristina, anche se sarebbe avvenuto davanti a tutti, probabilmente si sarebbe scatenata una grande polemica. Probabile che prima o poi Ida o la stessa Maria De Filippi commenteranno l'accaduto. Anche perché tra l'atronista e il corteggiatore c'era già stata una discussione a causa di Cristina, avvenuta al termine della sua sfilata. La dama si era lanciata in una lap dance e quando Ida ha detto che non le aveva dato fastidio, che i suoi corteggiatori l'avessero guardata, Mario aveva negato di averlo fatto, cosa che ha fatto ad irare l'atronista. Da Super Gossip a presto. Grazie.